Ben trovati in compagnia di San Luigi Adore, scusate il desabiet, fa molto caldo, ho dovuto anche spegnere il ventilatore per l'audio, quindi tanto non si vede niente. Sono non più di due giorni di distanza da che abbiamo fatto la nostra avventuretta a Urbex, tra Lucca e Pisa più o meno, in luoghi non ben precisati. Per la verità non solo a voi, anche a me non saprei ritornarci. Ho dovuto fare un video aggiuntivo perché mi rendo conto che quello che ho filmato sul momento non è sufficiente, mancano delle cose, quindi faccio questo video aggiuntivo. Si tratta di 4 visite a Urbex, dovevo farne 6, siamo riusciti a farne 4, avevamo a disposizione bene o male da venerdì sera che siamo arrivati e siamo andati a dormire a luna, abbiamo avuto sabato, poi domenica abbiamo dedicato a relax, quindi in un giorno 4 Urbex tra Lucca e Pisa. Purtroppo abbiamo avuto delle incognite, quindi abbiamo trovato magari dei posti che erano carini, ma c'era magari una stanza, due belle, non di più delle volte, persino in un castello. Alla fine gli scatti che vedrete tra qualche giorno sono scatti poi magari di una o due stanze, eccetera. Andiamo col video. Allora, vedrete nelle foto il resto della villa, ma guardate un inchietto abbocato. Guardate dove cazzo entra, questo buco qua, dove è già passato Davide e gli altri. Perfido, è tutto, è il vostro Gianluigi Giacoppo. Siamo passati da un bucio, da un bucio di culo siamo passati. Qui non è del tutto abbandonato, purtroppo ho iniziato il video già da dentro, non è del tutto abbandonato, qua c'è tutto così di scena. Questa è una compagnia teatrali che viene a mettere, viene a posare i suoi vestiti. Eccovi qua. Eh? E' vero? Eh? ah qui c'è un'altra scala e questa scala qui dove portava tanto così per curiosità ah ecco c'è una nette più lontana questa scala dove portava ah tu sei passato di qua? si ah ma ti hanno dato tutto? ah non quella è tua allora aspetta qua stacco e continuiamo le nostre riprese siamo arrivati da sotto siamo dovuti passare da quel buco per andare in un'altra area che aveva piano terra nel primo piano ma erano separati passiamo se andavamo prima si ma qui niente di che andiamo altrove no i più bei contro soffitti sono sotto ma qua c'è un altro piano quasi c'è un altro piano mi termina così in mano non ce la faccio a servire con tutto mi faccio qualcosa qua madonna ma Remma Maiala guarda guarda l'assassina del vivente farò butta ecco qua stai qui un attimo lucina lucina oh cos'è nel tetto? cazzo il pipistrello vaffanculo pipistrellazzo bastardo vedevo volare qualcosa vaffanculo poi sono tanto buoni scatolami 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 spettacolo spettacolo questa è la Toscana eh ragazzi chiunque vedrà mai questo video l'avrei fatto anche in diretta ma qua non c'è segnale siamo fuori dal mondo bastardo ma che c'è le gomme sto figlio della mignotta ma che t'ho fatto ecco qua vabbè niente siamo arrivati nella volta superiore ma mi sa che qua mi sogno i controsoffitti posso bere che tornare giù vabbè torniamo giù 25 e niente allora a questo piano qua per me non c'è un granché da fotografare allora continuo col mio biglietto che poi mettono insieme però insomma guarda l'infinità di vestiti di questa compagnia teatrale che da cosa mi han detto purtroppo pare che abbia chiuso i battenti quindi qua non viene più nessuno dal 2022 in realtà però guarda l'accumulo impressionante di roba particolare vabbè così e tornando sotto vediamo un pezzo delle stanze un briciolo più interessanti vediamo se sto a puntarmi bene ecco anche quanto il soffitto della madonna poi di mezzo purtroppo c'era questo coso brutto qua ce lo teniamo pazienza scusi lei fa parte dell'arredamento è qua da tanti secoli io sono arredato se volete vi arredo anche a voi non sempre ci fanno dei begli incontri nelle ville urbex purtroppo andiamo a riprendere di là quando il buon Nick avrà finito i suoi 270 scatti per farne uno andremo a riprendere anche l'altra stanza e insomma qui come potete vedere tutto un insieme di qualcosa di urbex però questo magazzino teatrale dove c'è di tutto dopo va bene mi piace ah se non fosse tutto pieno di roba non è male come stanza è carina va bene va bene questo c'è che devo fare che devo dire questo c'è sta qua dentro siamo in Toscana nella zona di Lucca e basta il buon Nick piazza un tappeto in questa stanza dove finalmente i suoi 270 scatti di questa stanza e niente era ancora il pezzo principale si la roba più bella qui comunque al piano terra secondo me bella sta va bene niente quando si vede un cazzo così si vede adesso andiamo a vedere una chiesetta là fuori che fa parte del se andiamo a vedere quella chiesetta là al fondo è parte di questa casa qua dalla quale siamo appena usciti dove avete visto tutti i vestiti eccetera siamo sempre nella zona di Lucca come dicevo facciamo attenzione a non farci vedere da nessuno in modalità furtiva molto furtivo sto camminando tranquillamente al luce del sole più furtivo di così queste chiesette qua normalmente intanto così quella scusa vedete qualcosa dell'esterno tutte queste ville antiche così vanno sempre la cappelletta la chiesetta insieme tutte quelle che abbiamo visto bene azione ola che azione il cazzo che mi sbalanzola tutto che azione siamo arrivati dentro questa cappelletta che avete visto da fuori ora non è ben chiaro che cosa ci faccia un soldato di terracotta dell'armata cinesi non è ben chiaro cosa ci faccia qualche rievocazione qualche così di teatrale dice un altro senza la testa vedete anche questo questo si è già rianimato si vede che l'imperatore è tornato in vita è uno dei suoi soldati di terracotta italiano di melda italiano di melda io spacco culo te tu volevi mangiare tanto pagare poco vale tanto sacchere bastanto io tu te la violi di cane così in pali di carne volevi dire perchè non lo avete detto no no la violi di cane così in pali va bene passiamo alla fine dell'area e dopo questo primo urbex ne avevamo in programma sei ma che se ce la facciamo abbiamo mangiato la grande rustichella che è il locale in Toscana siamo vicino a Lucca sempre Lucca, Pisa ma non lo sono credo napoletani in buona parte abbiamo mangiato molto bene abbiamo pagato anche poco tutto sommato quindi se passate da questa zona qua venite a fare un salto alla rustichella che ci hanno trattato bene niente va i cabariere sono anche bonazzi devo dire tutto ok e adesso continuo con il nostro urbex seconda tappa della giornata non sappiamo se riusciamo a farle tutte e sei comunque guardate questo vialetto arriviamo da la sono passati tutti bene tranne me che ho sforzato perchè ovviamente i pettorali non mi passavano tra le sbarre non era per la panza era per i pettorali ovviamente e adesso gli ho oh ma si passate ma che le mettono apposta le ortiche per terra figli della puttana e stavo dicendo che io intanto stacco questo video durerà 40 ore quello dovrò ritagliare comunque siamo arrivati davanti alla villa aspetta ecco l'ho fatto questo pezzo di strada quest'altra bella tappa poi vediamo cosa c'è dentro ma alle volte da fuori non sembrano chissà che poi dentro ce n'è da panico ah qui qualcuno ce l'ha bloccata eh ahia qua ci stanno gli sensori poi magari una trappola magari una videotrappola tanto per per far desistere la gente dall'entrare ahia sperammo bene vabbè vabbè iniziamo coi video iniziamo coi video vediamo cosa c'è un calcetto un calcio balilla mmm aspetta un po' ecco c'ho il coso ecco così vediamo un po' meglio eh la lucina ecco che va meglio ma sta cosa inquietante per me non so perché ma inquietante vedo passare degli orobs davanti alla videocamera e non li vedo passare dal vivo poi lì si è messo a tremolare un coso non so perché da solo io piccio sono rimasto da solo a piano di sotto che bevevano i signori ah bottiglie ancora piene chissà chi ci abitava qui dentro se qui ci sono le entità dei proprietari per favore non facciano scherzi siamo degli esploratori non fate scherzi eh siate gentili ah siete lì dimmi tutto son qua no la corrente funziona funziona tutto ecco l'allarme funziona ho fatto un mio amico che funziona tutto però l'allarme è staccato meno male c'è vani i sensori ma è staccato si è solo per far desistere magari per spaventare un po' no perché tengo attiva la corrente non so va bene va benissimo va bene grazie Nick allora intanto io prima di iniziare con le mie foto piccola video esplorazione che cosa c'è dentro ah ecco ma magari vedo meglio di là dunque fin qua una casa apparentemente normale vedremo di sopra io non sono uno che poi porta via nulla però sono curioso di vedere cosa c'è dentro ma qui è tutto arredato meno male non sono ancora arrivati i predoni a portarsi via nulla meno male vabbè ci sarà una birra in frigo la birra no però c'è la pasta ma qui ma quando l'hanno lasciata sta casa c'è tutto qua vabbè vabbè su di pronti sta i porcini ma questa sembra una casa abitata qui non ce l'ho ancora passato ma ecco lasciatelo da qua bene ed eccoci tornati in linea siamo al primo piano e sebbene fino adesso sembrava una normalissima casa abbandonata cosa c'è dentro? ah no questo sono un separato cosa c'è dentro il separato? non c'è niente adesso invece facciamo una stanza di quelle inquietanti perché che c'è in mezzo alla stanza? la carrozzina la carrozzina padre Pio padre Pio Pio qui chiedo perdono per la privacy al proprietario ma questo potrebbe essere un proprietario potrebbe essere della casa adesso poi attacco con le foto ma prima facciamo una rastrellata oh madonna puttana Nick non mi sono accorto che di tu mi sono preso un colpo no non mi sono accorto non sono io che mi sono cagato addosso ho detto che cazzo è quello porca miseria ho fatto come te l'altro notte in quelle... no guarda questo minchia si è ridotto male poverino me già che imbassiamo gli animali già stanno sui coglioni però pazienza vediamo cosa c'è di qua vediamo cosa c'è di qua vediamo cosa c'è di qua questa qui non è la battaglia disegnata da Leonardo è la battaglia quella persa che si pensa che sia rimasta sotto al quadro di vieni vidi vinci qualcosa di eserci no cerca trova cerca trova che non mi ricordo dove cavolo era si allora più precisamente mi riferivo all'opera del Vasari che si troverebbe a palazzo vecchio a Firenze con la scritta cerca trova su una bandiera di questa battaglia che era la battaglia non me lo ricordavo a memoria anche se l'ho visto il documentario la battaglia di allora appena letto porca miseria la battaglia di Marciano in Val di Chiana nasconderebbe forse un dipinto di Leonardo da Vinci che rappresentava un'altra battaglia la battaglia di Anghiari quindi sto leggendo perché non me lo ricordavo a memoria a quello mi riferivo qui un'altra stanza dei ragazzotti va bene poi ci mettiamo bene dentro qui un'altra stanza di letto e qui non c'è dei grandissimi controsuffitti o cosa però c'è ancora un bel arredamento batterie e cose qui non c'è più niente di chiede mi riferisco a prenderlo allora la sottoveste quella blu dell'800 va bene va bene belli quei cosi delle tende fighi non è anche più troppo antica cosa non ho ancora visto qua? ma niente, non credo di aver visto tutto stai già scattando? no, però no ti passo da solo per vedere cosa c'è qua un'altra stanza da letto va bene vecchio pal color non ho notato niente di particolare però c'è un bel po' di arredamento si, passo subito così mi devo dalle balle vado subito così mi devo voilà prima di chiudere le esperienze con questo secondo urbex siamo sempre in toscano siamo sempre tra Lucca e Pisa però non so esattamente dove siamo e anche se lo sapessi non ve lo potrei dire vado ad inquadrarvi un'altra stanza che ho trovato grazie a Nick che ha trovato il pianoforte poi qui in foto speriamo che sia venuto meglio comunque ho pianoforte a coda guardate che meraviglia guardate che meraviglia un busto che ho fotografato sopra che forse del proprietario è impressionante lo vedrete in foto sembra la persona vera con gli occhi chiusi è stranissimo sto busto tanto non so chi siano comunque insomma e passiamo e passiamo alla prossima visita continuo il meraviglioso viaggio nella natura toscana adesso è difficile dirvi dove siamo non lo so veramente giriamo tra Lucca, Pisa, in tutte frazioncine, posti non so più dirvi dove siamo siamo in Toscana è l'unica cosa che so e stiamo andando alla terza meta vediamo vediamo cosa ci aspetterà nella terza meta di questo urbex toscano il video resta da tutto un insieme di pezzi ritagliati qua dietro c'è il cancello subito dietro quell'albero lì ma non posso filmare tutto di continuo siamo comunque entrati da un fianco guardate che spettacolo io quando vedo sti posti mi chiedo come dovevano essere da sani, da abitati scarinata lì in mezzo porterà qualche struttura madonna qua è bello è tutto bello qua è tutto molto bello è una fontana ah questa inquadratura ah questa inquadratura no qua ci devo fare una foto seria qua ci devo fare una foto seria madonna se ben ricordo mortacci mia se ben ricordo dove ho fatto l'ultima parte di video prima ho fatto una foto davanti di questa casa cosa che è disumana è già preistoria anche lui pensate abbiamo trovato windows 95 del giurassico allora qui siamo dentro la prima adesso facciamo prima un bel rastrellamento così poi mi metto con le foto fuori ho fatto una foto della madonna davanti c'è una fontana con i fiorellini con tutto aspetta cosa c'è qua ah the good father ma questa non è una casa tanto tanto vecchia videocassette peccato che io per mia etica e morale non porto me via niente perché qui queste veramente ieri porterei via me le sdoppiere tutte fare un file digitale per salvarle vabbè pazienza adesso vi guarderò con calma che film sono ma tanto si trovano in rete non è che è partenzialmente arredata anche questa vediamo un po' cosa c'è qui se si apre ah si si apre non c'è più niente di bricino come se questo cassetto no 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 è vuoto è vuoto tutto vuoto help qualche cretino ha scritto help sa tanto di case di fantasma con la scritta help help you must die sono tutte cose che si scrivono nelle case che abbandonano e mi si è staccato il video e chissà perché ogni tanto perché cazzo devi cagare c'è anche la cartigenica più di così sono ancora un bel figurino ehi ehi piccola una dove è il pianoforte no altre stanze da letto ma quanti cazzo di bagni c'ha in questa casa un'altra stanza Elber qua però di antico, di bello, di speciale qua però niente, tanto arredamento oh, meno male che c'è un bagno mi stavo chiedendo dove potessero cagare non ho ancora visto un bagno cassa panca niente, una coperta non c'è niente siamo al piano interrato tre piani e qui qualcosa di interessante intanto c'è un altro bagno per cambiare questa casa si preoccupavano di poter cagare da qualche parte hanno fatto giusto un bagno tanto per non stai ancora stai già fotografando Nick? si ok, allora non vado qui davanti io continuo con il mio video secondo te quando l'hanno abbandonata sta casa lì c'è tutta la collezione di VH ah ecco mi sembrava che fosse ah sì io vorrei vedere quella parte solare con le boccette ho capito per questo ma avevano inviato una foto di sto posto ah, eh, comunque pochi anni perché si vede che è nuova Dio voglia ma che roba addirittura ma pensate e tutte le foto le hanno abbandonate anche lì ho visto questa non è mi piaceva che era particolare con questi due settini ah, madonna l'hanno compratta nel 2000 quindi si può vedere com'era nel 2000 guarda, mi hanno inviato sta foto qua ma io sto facendo un video della tua foto, eh bella è quella lì, dici? ah, ecco, perfetto qua ti racconto tutte le storie com'era prima la casa che figata ci sono per capire ci manca questa già dobbiamo farla eh è la prossima sì ma nel frattempo riusciamo solo a passare a prendere Davide tra una casa e l'altra se ci riusciamo lui, non so ma penso che dobbiamo avvisarlo 20 minuti prima dobbiamo fare un'ora più pronto non riusciamo allora devo aspettare ancora un attimo perché lì dove è adesso? ma lui no, è lì tranquillo però dice fatemi sapere quando e lui adesso cazzeggia un po' sono le 5 e mezza se facciamo la svelta qua 10 minuti ma guarda a me una volta che ho fatto una foto lì dove la fai te poi tanto non ah, guarda questa è bella eh sì ma da figa eh, madonna altro che ma è ma è bello comunque sì, c'è tutta la storia non ho dipito a bed and breakfast e poi ho preso di nuovo ah, ecco ecco perché c'è tutti sti bagni avrà 200 bagni eh, sì è un bed and breakfast mi sembrava che ma sta ancora scattando? eh, probabilmente sì e niente quindi stavano dicendo bella gente un pezzo della storia filmata che cazzo ah, ecco non capivo se ero io che vado davanti che niente c'è tutta una storia qua filmata ma boh si vedrà nel filmato filmata fotografata scusate dunque siamo dentro a un castello a fianco una chiesetta che è aperta che c'è anche della gente il castello non è proprio aperto ma a fianco al portone volendo si passa non sappiamo se adesso da questa scalinata nel verde niente mi sa di no c'è un cazzo da lì? no ah ma non finisce di così perfetto il primo tentativo è andato male vediamo se riesco a riprendere qualcosa di interessante le mura ecco lì c'è un pezzo di muro con i merletti ancora adesso in qualche maniera adesso entriamo vediamo da dove lì c'è un pezzo di muro lì c'è un pezzo di muro eh che ve ne pare frito la vettura continua va bene sto zitto l'ho staccato troppo presto perché qui c'è un bel pezzo ma dobbiamo stare zitti perché pare che ci possa essere qualcuno la camera è zozzissima lì c'è un pezzo di muro meraviglia meraviglia che mi picchia mi scompicchia il cazzo sta qua dentro un coglione questo è un bosco di proiettili lo riconosco uno spara pallettoni non provate bene non provate bene è entrata è entrata trovata è entrata trovata è bravo Nick che entra dappertutto il lucertola che entra dappertutto il lucertola che sopra che sopra gli stai la non distocchi è un pezzo che mi ricercito va bene purtroppo i video della giornata finiscono lì anche perché eravamo molto stanchi iniziando al mattino presto mi sono dimenticato di fare un'apertura, una chiusura e l'ho fatta adesso indifferita a distanza di 2-3 giorni 4 tappe tra Lucca e Pisa al 25 di giugno del 2023 questo è quello che ho da mostrarvi e nei prossimi giorni vedrete le foto che ho salvato circa una quarantina saranno anche qualcosina di meno buona visione e alla prossima